allora Jean com'è la storia? questi chi alle volte li chiamano che gnocchi e la marinara ma come marinara? dirai tu e marinara perchè navigano, navigano nel burro per quello roba bella grassa, bella vuncia qui non si scherza a 2.275 metri è uno spettacolo oggi poi abbiamo anche risolto il problema dei ramponi perchè gira in ferramenta con i sociavet ecc saluti a tutti a voi che non siete qua presenti buon appetito ciao a tutti